buongiorno oggi vi faccio vedere come io pulisco casa allora per i pavimenti secchio d'acqua metto un cucchiaio di percarbonato l'acqua è tanta facciamo anche uno e mezzo poi metto questo sapone ecologico ne metto giusto un tappino perché sennò fa schiuma e infine per profumare un pochino di pavimenti quindi le stanze rimane un profumo buono per un po di tempo metto un profumatore questo l'abbiamo comprato non mi ricordo dove alla lidl abbiamo comprato alla lidl e c'è anche scritto che va bene per i pavimenti oltre che per la biancheria una spruzzata basta poi come prodotti basta voglio per lavare i pavimenti uso un panno in microfibra un buco e un pelle di daino non so come si chiami tipo quello per le macchine perché io i pavimenti non li lavo col mocio o con lo straccio normale uso questo tipo tira acqua non so infilo i gli stracci dentro lavo il pavimento poi quando ho scopato i pavimenti li ho ospirati vi faccio vedere come funziona